Ricezione di Djavoronov, Orduna appoggia per Yosifov, attacco verso la zona difesa da Torres. Riezione poi Polo, va incrociare contro le mani a muro di Viktor Yosifov. La battuta di Cottarelli, gran ricezione di Botto, Orduna lì indietro per Gafur, la palla si penna dopo il muro, Cirovic in copertura, poi Torres, attenzione perché la palla è ancora viva, il miracolo di Jacopo Botto, poi Luotti murato da Gafur, si continua a giocare, problemi per Padova, Fribon per Monsa, Orduna non passa, Yosifov altra possibilità, ancora Luotti, il muro di Viktor Yosifov, 24 pari. Riceazione!